Allora, faccio sto annuncio mentre gioco a Gemshi qualcosa di giornalità appena alzato Allora, innanzitutto domani che è domenica Mi dai il telefonino? Mi dai la data? Grazie Dieci? Che ci stanno ai finali però Domani pomeriggio intenzione di fare una live dalle 3 fino alle 5 di Easy Smite Sì, semplicemente per sciallarla Quindi facciamo una bella live, faccio una bella live del primo live dell'anno E seconda cosa, ho finito Okami, però ci sono un problema e ve lo spiego C'aveva il copyright, sì C'aveva il coso del finale del copyright e praticamente mi ha tagliato tutta la battaglia finale Ovviamente ho fatto... non posso mettere né immagini né niente perché non posso registrare E se le uso, quello col biletto online, se anche se le uso mi potrebbero rompere i coglioni col copyright Se trovo per esempio vado su Google, prendo un'immagine e la schiaffo dentro Anche perché non lo potrei fare su console, lo dovrei fare su PC quindi Sì, sì, saluto E niente, quindi ho dovuto parlare, ho dovuto spiegarvi come è andato il finale Per l'inesima volta e mi sono rotto abbastanza le scato Quindi non lo faccio mai più, non faccio più giochi che... Prima di fare i giochi vado a controllare se posso fare il finale Comunque, per dirvi questo, o cammino ho finito, devo solo montare i video Saranno 9 video che mi mancano da montare perché sono parecchi E niente, giusto per dirvi, domani live Mi fa piacere se siete passati anche solo per un saluto e niente Ci vediamo... ah su Twitch eh, live su Twitch E niente, ci vediamo lì Ciao